Buongiorno, buongiorno con le stelle, rubrica astrologica a cura di Monica Amarillis. Anche oggi buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e oggi è martedì 26 ottobre 2021. E vediamo come sarà la nostra giornata con i pianeti e la luna, soprattutto la luna, è l'astro che maggiormente incide sulla nostra emotività, sul nostro umore, sulle nostre emozioni. Ieri sera la luna è entrata nel segno del cancro, che è un segno governato dalla luna, quindi tutte le qualità lunari che sono l'immaginazione, il sogno, l'emotività, il femminile, sono rafforzate, ampliate. Il cancro è un segno che fa parte dell'elemento acqua e rappresenta un po' l'infanzia, il nido, il nostro trovarci una tana in cui stare al sicuro. Infatti anche simbologicamente il cancro, che è il granchio, sostanzialmente ha questa corazza esteriore, ma dentro è tenero, per cui deve difendersi. Ed è proprio la simbologia, quella del cancro legata, collegata all'infanzia, alla maternità, rappresenta le acque chiare, pure, quindi dove noi ci nutriamo sostanzialmente, nutriamo la nostra interiorità. Con questa luna, anche gli altri segni d'acqua, oltre al cancro, cioè scorpione e pesci, vengono nutriti, vedono rafforzate le loro qualità precipue. Quindi saranno quelli con la luna in cancro due giorni, due giorni e mezzo, all'insegna delle emozioni e comunque anche della sensibilità, del guardare, del riuscire a cogliere delle cose su cui magari tante volte non ci soffermiamo. E quindi per il cancro è sempre una rigenerazione, è sempre un rinnovamento, soprattutto intimo, soprattutto emotivo, ma anche per scorpione e pesci rappresenta un rafforzamento di quelle che sono le loro caratteristiche. Ma la luna in cancro è ben recepita anche da chi ha pianeti nel segno della Vergine e nel segno del Toro, due segni di terra che però vengono nutriti da queste acque del cancro e quindi recepiscono bene, si sciolgono un po' rispetto magari alle rigidità che può avere un segno di terra, si sciolgono e sono anche loro più ricettivi, più sensibili, riescono a cogliere di più alcuni collegamenti, alcuni aspetti, atmosfere a cui magari di solito sono un po' più impermeabili. Chi invece si sente troppo emotivamente coinvolto rispetto alla propria natura e quindi le nature che cercano di prendere un po' più le distanze rispetto a questo coinvolgimento emotivo sono il capricorno, la bilancia e l'ariete che quindi si sentiranno troppo avvolti da questa atmosfera di sensibilità, di emotività, di umoralità e quindi avranno delle reazioni a volte un po' eccessive oppure si chiuderanno ancora di più in se stessi, penso soprattutto al capricorno che è un atteggiamento abbastanza tipico. Invece altri segni sono abbastanza poco sensibili, poco ricettivi a queste energie cancerine, penso per esempio al sagittario, all'acquario, ma anche i gemelli e leone che comunque spesso hanno dei pianeti nel contiguo segno del cancro hanno meno difficoltà a relazionarsi con questa energia lunare cancerina. Ricordo che la luna è sempre calante, quindi è un momento adatto per liberarsi di cose trattenute, di ciò di cui vogliamo liberarci e quindi in questi giorni con l'uno in cancro sarà proprio fare pulizia a livello di emozioni, di ricordi, cercare di rilasciare questa emotività che magari non abbiamo vissuto completamente ma che possiamo anche esprimere in modo pieno per potersi liberare, per potersi lasciare alle spalle certi ricordi o certe emozioni non piacevoli. A livello generale della situazione dei pianeti, la luna forma un bel aspetto con il sole, questo è sempre un interagire tra il maschile e il femminile, tra lo yin e lo yang, quindi creando un buon equilibrio di base in tutte le cose che coinvolgono o i due sessi o comunque delle attività normalmente assegnate ai due sessi o al maschile o al femminile, per esempio penso alla parte razionale e alla parte più emotiva e quindi queste due parti possono convivere bene nella giornata di oggi. Finalmente Marte ha superato la quadratura con Plutone, quell'aspetto di cui vi parlavo un po' di blocco tra due forze altrettanto forti e però c'è ancora un po' questo clima di tensione nell'aria. Ha maggior ragione perché il sole nel frattempo sta per formare un altro aspetto di tensione, ma con Saturno. Anche Saturno, Saturno rappresenta l'autorità, rappresenta la disciplina, rappresenta la costanza, la determinazione, il lavoro svolto con pazienza, la lungimiranza verso degli scopi di media e lunga durata. Quindi il sole quadrato a Saturno, anche qua si contrappongono due forze, due autorità in qualche modo e quindi anche qua nei prossimi giorni si potranno vedere delle rigidità nei comportamenti di chi ha dei pianeti in questi segni, cioè Scorpione e Aquario, ma anche Leone e Toro. Quindi queste persone potrebbero arroccarsi un po' di più nelle loro posizioni, essere meno disponibili al dialogo, potrebbero esserci degli scontri di autorità, potreste vederli nel vostro ambiente, potremmo vederlo questo tipo di scontro anche nella società in generale o nella politica, vediamo un po' che cosa succede. Di solito rappresenta sempre un blocco questo tipo di aspetto, ovvero una quadratura, ovvero i due pianeti si trovano a 90 gradi di distanza l'uno dall'altro sul cerchio zodiacale. Un altro aspetto, anzi già preciso proprio oggi, è un'altra quadratura tra Venere e Nettuno e i segni interessati sono il sagittario e i pesci. Allora qui entriamo in un mondo anche qua più interiore, affettivo, di relazione. Venere ha a che fare con le relazioni, ha a che fare con l'amore, la capacità di donarsi, di amare, anche con il senso estetico e la creatività artistica, così come Nettuno. Quindi qui abbiamo un blocco tra forze vicine, tra forze analoghe e può rappresentare soprattutto un rischio di cadere nelle illusioni, di autoilludersi sulle relazioni, sulle cose che ci accadono, sui nostri avvicendamenti. E quali sono i segni che rischiano di più questo tipo di illusione? Ebbene sono proprio sagittario, pesci, vergine e gemelli. Quindi attenzione, non solo oggi ma anche nei prossimi 3-4 giorni, di non cullarvi troppo nelle illusioni. Cercate di rimanere con i piedi per terra, di non perdere di vista la realtà delle cose. Ieri vi parlavo degli ascendenti e di come scoprire qual è il proprio ascendente, ma anche tutto il resto dei pianeti nel proprio tema natale. Ma volevo approfondire questo argomento e parlarvi della combinazione tra il segno solare e il segno dell'ascendente, partendo dal segno in cui ci troviamo in questo periodo, ovvero lo scorpione. In questo periodo il sole sta attraversando i 30 gradi corrispondenti al segno dello scorpione e quindi ho pensato ogni giorno di parlarvi di una combinazione tra segno e ascendente, cominciando dallo scorpione e quindi parlando, per esempio, della combinazione scorpione con ascendente ariete. Ebbene vi ho già detto che l'ascendente e tutto il resto, tutte le altre 11 case, dipendono dall'ora in cui si è nati, ma anche dal luogo in cui si è nati. Ebbene, alle nostre latitudini, a grandi linee tra il quarantesimo e quarantacinquesimo parallelo nord, l'ascendente ariete si potrà avere per uno scorpione se è nato all'incirca tra le 2 e le 4 del pomeriggio. Quindi ovviamente poi c'è sempre da verificare con esattezza, però all'incirca tra le 2 e le 4 del pomeriggio in Italia una persona nata nel segno dello scorpione avrà l'ascendente ariete. E vediamo un po' che cosa significa questa combinazione. Intanto i due segni hanno come governatori due pianeti in comune, ovvero Marte e Plutone. Marte e Plutone quindi hanno questa forza prorompente, aggressiva. Marte è più esteriorizzata, l'aggressività. Plutone invece è più sotterranea, più introiettata. Ma che cosa cambia per questi due segni? Uno ha come esaltazione il sole, cioè l'ariete, e lo scorpione invece ha l'esaltazione di mercurio, che quindi porta una cerebralità e un'intelligenza, un grado di percezione delle cose diverso rispetto all'ariete, che è tutto fuoco e irruenza, che vuole abbattere i muri prendendoli a testate, mentre invece lo scorpione pensa bene a quale potrebbe essere lo stratagemma più adatto per ogni situazione. Ebbene, questa combinazione quindi aumenta sicuramente l'impulsività e l'aggressività di uno scorpione tipico, facendolo diventare più evidente questa aggressività. Si accentuano le tendenze aggressive, impulsive e anche istintive, ma sicuramente queste persone, questi individui hanno una grossa intuizione, una visceralità, sentono di pancia le cose. E il soggetto con questa combinazione, cioè sole in scorpione, ascendente in ariete, sarà anche portato all'iperattività. Però avrà anche un grande senso di fiducia in sé e un grande coraggio. Nessuna montagna, nessun ostacolo gli sembra insormontabile. Ed è un carattere schietto fino alla brutalità, sarà abbastanza temerario come carattere, ma sarà anche caratterizzato da più slanci rispetto a un tipico scorpione. E raramente però tende a trarre profitto dall'esperienza acquisita, quindi potrebbe ripetere sempre un po' gli stessi errori. E il carattere assume delle sfumature di ingenuità che non sono tipiche dello scorpione. E quindi si può lasciar prendere un po' la mano dalla spontaneità, dall'entusiasmo. E a livello affettivo sarà facile ai colpi di fulmine, alle attrazioni fatali e immediate. E quindi i guai principali di questa persona vengono dall'imprudenza. Questo è un po' un ritratto della persona scorpione con ascendente ariete. I prossimi giorni vedremo le altre combinazioni dello scorpione e poi man mano faremo tutti i segni se riusciremo insomma a stare insieme parecchio tempo in questa rubrica. E fatemi sapere se vi interessa questa cosa o se preferite che io parli di altro. e vi ricordo che ovviamente l'astrologia è uno studio molto complesso uno studio molto complesso che riguarda sì il cielo sopra di noi ma in realtà riguarda il nostro sistema solare soprattutto, quello in cui siamo nati e che è un po' la matrice il nostro grembo cosmico è questo sistema solare. e lo studio dei movimenti dei pianeti ci porta a trasporre nella nostra realtà questi movimenti e a interpretare le cose che succedono alla luce dei movimenti dei pianeti e quindi abbiamo veramente la possibilità di studiare non solo la personalità delle persone ma anche qualsiasi evento storico perché studiamo la qualità dell'energia di quel momento. E dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info-monicaamarillis.com www.monicaamarillis.com